Nel corso dell'anno Agicom è solita rilasciare attraverso l'osservatorio delle comunicazioni un report che parla proprio del mondo delle comunicazioni in generale e all'interno di questo troviamo anche informazioni statistiche sul mondo delle telecomunicazioni e come già fatto in passati video, anche oggi andiamo a vedere l'ultimo report che hanno rilasciato che è in particolare il primo del 2020, nel quale troveremo tutti i numeri relativi alle reti fisse e alle reti mobili. Per far sì che questo video non esca troppo lungo e che soprattutto ci sia il tempo di fare anche qualche commento a riguardo di questi numeri, ecco che questa analisi sarà divisa in due. Oggi parleremo delle reti fisse, mentre nel corso della settimana in un secondo video parleremo delle reti mobili. Detto ciò possiamo iniziare ricordando che i dati inseriti all'interno di questo report risultano aggiornati fino a dicembre 2019. In questi primi grafici vediamo rappresentati i dati relativi a tutti gli accessi di rete fissa quindi FTH, FWA, FTTC, ADSL ma anche le linee solo voce, quindi il telefono fisso. Possiamo vedere innanzitutto un meno 695.000 accessi probabilmente dovuto alla sempre più diffusa scelta di affidarsi esclusivamente alla rete mobile non solo al posto del telefono fisso ma anche come linea internet casalinga utilizzando i famosi router wifi con SIM. Soluzione che spesso viene adottata da chi può contare su connessioni tendenzialmente scarse come la DSL, cosa che quindi giustifica e contribuisce sicuramente all'importante diminuzione di accessi per quanto riguarda TIM. Che però, nonostante questo, rimane ancora assolutamente incontrastata nel suo dominio delle reti fisse con un 46,5% di quote di mercato con la seconda inseguitrice, ossia Vodafone, al solo 15,3%. Passando ora a valutare le reti fisse dal punto di vista dell'infrastruttura è fin da subito evidente il continuo trend negativo del rame che a livello percentuale scende sotto il 50% raggiungendo quota 47,2%. In trend positivo invece FWA, FTTC e FTTH per le quali è interessante fare qualche considerazione. L'FWA continua sempre più ad essere una valida soluzione per chi può avere solo una DSL ma la crescita è lenta, solo 7,3% nell'ultimo anno. Stiamo attenti però al repentino aumento che potrebbe avere questa tecnologia con l'arrivo delle connessioni 5G residential che si baseranno proprio sull'infrastruttura FWA. L'FTTC invece cresce moltissimo in termini di numeri assoluti 1,3 milioni le nuove linee nel corso dell'ultimo anno grazie al grande lavoro di conversione da DSL a FTTC fatto da Team ma anche alla maggiore volontà di altri operatori di affidarsi a questo tipo di infrastruttura come per esempio Fastweb che ha ampliato la sua copertura in FTTC grazie alla tecnologia Bitstream NGA New Generation Access proprio su rete Team. La maggiore crescita percentuale è invece della FTTH che fa registrare un più 43,3% nel corso dell'ultimo anno grazie soprattutto allo sviluppo della rete wholesale di OpenFiber. Da vedere con positività questo aumento percentuale anche se la situazione generale a dicembre 2019 rimane ancora poco felice visto che solo il 6,2% delle linee totali è una connessione FTTH. Nonostante questo però le velocità raggiunte dalle nostre connessioni non sono così malvagie visto che più della metà e il 55% delle connessioni fisse viaggiano a più di 30 Mbps ma rimane ancora alta la percentuale di connessione sotto i 10 Mbps che costituisce ancora un bel 20% del totale e soprattutto siamo ancora assolutamente lontani dagli obiettivi espressi dall'agenda digitale europea sulla banda ultralarga che prevederebbe, entro la fine di quest'anno, 2020 copertura con velocità pari o superiore a 30 Mbps per il 100% dei cittadini dell'Unione Europea e servizi con velocità superiore ai 100 Mbps per il 50% degli utenti domestici europei. E se volessimo buttare l'occhio ancora più in là e dire, ma sì, magari arriveremo al secondo obiettivo ecco, l'obiettivo del 2025 è quello di raggiungere tutti gli utenti sia in zone rurali che urbane con una velocità minima di 100 Mbps Infine è anche interessante vedere le quote di mercato dei vari operatori per velocità commercializzata e sì perché, siccome abbiamo visto considerando gli accessi di rete totali si ha un dominio incontrastato di team dividendo per classi di velocità la forbice con gli altri operatori si restringe sensibilmente certo, non ovviamente nella fascia più bassa fino a 30 Mbps dove team può contare sulle linee ADSL ma già nella fascia tra 30 e 100 Mbps vediamo team al 33,6% con l'Incam ad inseguire a solo il 24,2% L'Incam? Sì, l'Incam è Eolo al terzo posto a dimostrazione del fatto che in questa classe di velocità ricopre un ruolo fondamentale la tecnologia FWA Per quanto riguarda invece le velocità superiori ai 100 Mbps ad inseguire vediamo invece gli operatori con una propria infrastruttura in fibra o partner di Open Fiber come Vodafone, Fastweb e Win3 e anche qui la distanza non è così esagerata come sulle linee totali abbiamo infatti team al 39,4% e subito dietro Vodafone al 22,1% In conclusione quindi la situazione delle reti fisse pur non essendo di certo positiva e sicuramente lontana da quelli che sono gli obiettivi dell'agenda digitale europea è comunque in miglioramento e non ci resta che sperare che i lavori dei cantieri dello sviluppo della rete di Open Fiber continuino senza ulteriori ritardi e che l'arrivo del nuovissimo 5G Residential o 5G Fixed Wireless Access possa dare una grande mano per questo sviluppo delle reti fisse nel nostro paese Grazie a tutti